Salve a tutti fratelli di Brottegamer98 e benvenuti in questa nuova challenge Levati di bolla, non ti devi arrampicare, vabbè Oggi siamo sulla Butterflip Challenge Oggi vedremo se faccio Butterflip Scusate se guardate la mia parte ultima Ma adesso mi dovete guardare No, sentite qua No, 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 da sole, vabbè Ecco qua, è iniziato, primo tentativo Niente Secondo Niente Terzo Niente Regal, adesso dovremmo un attimo bere questa cosa Che c'è Ok, ma è più probabile che faccio Butterflip Ok, ecco qui Niente Ho pubblicato qui su una visuale bella tosta E io proverò a fare Butterflip Non mi venivo a pensare niente Tocca al Libor Trocca Guardi, secondo tentativo Trocca Ultimo Regal, perché abbiamo tre tentativi a terra Trocca E niente Regal, se volete un nuovo video Dobbiamo raggiungere Quanti mi piace? Un botto, un botto Un botto Un botto, perché se volete un video Che io potrei anche Che ne so Mi dà la pista Andrugati No, vabbè Un video con mio cugino Vabbè Già raggiunto Tre mi piace Se arriviamo a sei Potrei farne un altro con lui Beh, vabbè Questo video speriamo che raggiunga Otto mi piace E poi la riporteremo insieme a mia cugino E mia cugina Tonia Eccoci qui Primo tentativo per me Beh, sbagliato Secondo Quasi Sbagliato Niente Libor C'è regà Io sono il pro del Butterflip Comunque tra l'altro mi sto spaccando Però Primo tentativo sbagliato Secondo Sbagliato E' terzo E' terzo C'è regà scusate Lui è piccolo Non mettete Non mi piace Solo per me Perché E comunque Non dico niente Di seguire a nessuno Perché sennò Non seguire A Zucca Zucca No, no Vabbè Sì Vabbè Poi se lo vogliono seguire Lo seguono Comunque deve portare Rispetto Vabbè Vai 1-0 Mamma mia Il pro Secondo tentativo Oh Quasi Terzo Però regà Siamo 1-0 Primo tentativo Non si può rimettere bene Oh Mamma mia Regà Comunque in questa live Sembra che proprio L'acqua mi va addosso Perché Il telefono L'ho posizionato Proprio su una parte Dove Bum 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 Dove Dove proprio C'è la visuale Ok eccoci qui Siamo 1-0 Per me E qui Vai Secondo tentativo Per Liborio Mamma mia Ultimo tentativo Per Liborio Poi tocca a me di nuovo Vabbè Ovvio che la vinco io Perché poi dice Eh ma poi la vinci tu Perciò fai la challenge No regà La vinco io E vediamo poi Perché vabbè Lui non la fa mai Batterti Però Però c'è Questo è un video Per divertimento Non è nemmeno Per giudicare Se qualcuno giudica Questo commento Cosa? Tra cui Xstunt3 Comunque Io sto pensando Di divertirci il canale Se non Chiudi quella bocca Vabbè Spai Primo tentativo Secondo Oddio Io voglio provare Un'altra Comunque Boom Boom Comunque